Giovanna De Vincentis, che è coordinatrice provinciale Lady Chef Pescara, compartimento della Federazione Italiana Cuochi, che ha rappresentato l'Abruzzo a Casa Sanremo per il Festival della Canzone in un team di 30 Lady Chef provenienti da tutta Italia. Com'è stata questa esperienza? Un'esperienza entusiasmante. È stata per me la prima volta a partecipare a un evento del genere. Ringrazio la nostra coordinatrice nazionale Alessandra Barruzzi, che ci ha dato la possibilità di poter intervenire a questo tipo di manifestazione. Eravamo più di 30 Lady dentro Casa Sanremo e ci siamo occupate della preparazione dei pasti per circa 200 persone a pranzo e 200 persone a cena. Avevamo fatto dei turni perché comunque eravamo abbastanza e per la situazione Covid non ci era permesso di permanere più di tante persone all'interno della cucina. Ci siamo occupate non solo della preparazione dei pasti, ma anche dell'accoglienza degli ospiti VIP, del raccontare le nostre preparazioni e quindi far conoscere le materie prime e la nostra professionalità. E quindi è stata un'esperienza di condivisione ampia, non solo attraverso il portare il lavoro al di fuori delle cucine, ma anche attraverso la collaborazione di tutti noi chef, perché magari alcune non si conoscevano proprio. Quindi è stata proprio un'esperienza interessante, molto molto interessante. Il rapporto con i VIP com'è stato? Allora, il rapporto con i VIP è stato in alcuni casi socievole, si sono prestati anche a delle foto, a poter colloquiare con noi, in altri casi un po' più distante, diciamo così. Però immagino hanno apprezzato il cibo. Sì, sì, assolutamente. Hanno apprezzato il cibo e abbiamo rappresentato un po' tutta l'Italia con queste nostre preparazioni. L'Abruzzo era rappresentato da una pasta molto conosciuta, quindi insomma era presente tutti i giorni sulla Tava. La possiamo anche dire. La De Cecco era uno sponsor ufficiale, perché noi dovevamo fare tutte le preparazioni a base di sponsor ufficiali. Quindi anche quello è stato interessante, dover articolare diversi menu per diverse giornate in diverso modo, insomma. Grazie a tutti.